La situazione debitoria dell'ASP1 di Teramo, l'azienda sanitaria che gestisce le case di riposo di Teramo, Santomero, Nereto e Civitella del Tronto, preoccupa fortemente le segreterie provinciali di Cigelle e Cislewil che richiedono l'immediato commissariamento dell'ente. Una situazione che si protrae da febbraio 2020 e che porta spesso a ritardi nel pagamento degli stipendi. In questi giorni in particolare i sindacati denunciano il disagio che sta vivendo l'impresa che gestisce la casa di riposo dei Benedictis di Teramo, alla quale è stato annunciato che lo stipendio di settembre, che come da contratto nazionale doveva essere erogato entro il 20 ottobre, non sarà pagato prima della metà di novembre. In una nota la Cigelle e Cislewil dichiarano che dopo mesi, per non dire anni, trascorsi a lanciare appelli su una situazione economica che si andava facendo sempre più pesante e insostenibile, sembra di essere giunti drammaticamente ad un bivio. L'Asp 1 di Teramo avrebbe accumulato nel tempo un'esposizione debitoria nei confronti dei vari soggetti economici che garantiscono servizi all'interno delle strutture operanti sul territorio per circa 8 milioni di euro. Si richiede dunque il commissariamento dell'Asp 1 e l'impegno a tutti i portatori di interesse, la diocesi di Teramo Atri, i comuni di Bellante, Civitella del Tronto, Corropoli, Nereto, Santomero, Teramo, Tortoreto, ma anche la provincia di Teramo e la regione Abruzzo, per trovare una giusta soluzione ad una vicenda spiacevole che dura da troppi anni.